Per il Forum Abruzzese dei Movimenti dell'Acqua è necessaria la consapevolezza che oggi i laboratori di fisica nucleare dell'INFN sotto il Gran Sasso sono classificati ufficialmente come impianto a rischio di incidente rilevante in base alla direttiva Seveso, quindi alcuni esperimenti con migliaia di tonnellate di sostanze pericolose inconciliabili con il territorio. Non è un gioco e un altro passo della nota diffusa dal Forum. Si tratta di una questione estremamente seria che comprende la redazione e pubblicizzazione di un piano di emergenza esterna rivolto alla popolazione, un documento che dovrebbe essere conosciuto a menadito in caso di incidente serio per sapere come comportarsi. La lettera dell'Istituto Superiore di Sanità che nel 2013 certificava l'incompatibilità tra captazione delle acque ad usi idropotabili e attività dei laboratori di fisica nucleare dell'INFN sotto il massiccio del Gran Sasso, da un lato conferma tutti i nostri timori, ma dall'altro getta una luce sinistra su quanto hanno fatto, o meglio, non hanno fatto, non stanno facendo, gli enti pubblici abruzzesi. Nel documento si conferma, senza giri di parole, che i laboratori e i suoi esperimenti attuali non sono compatibili con la captazione ad uso idropotabile, secondo le leggi esistenti. La zona di totela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni. Essa, in caso di acque sotterranee e ove possibile per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione, oppresa e infrastrutture di servizio. Di conseguenza, spiega ancora il forum, ben 180 litri al secondo di acqua di uno dei più importanti acquiferi d'Europa oggi non possono essere utilizzati per soddisfare un bisogno primario dei cittadini abruzzesi. Costi ambientali e sociali che devono essere resi espliciti, visto che ora lo stesso acquedotto del Ruzzo annuncia di adire alle vie legali per vedersi riconosciuti dai laboratori i costi aggiuntivi della potabilizzazione.